ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di contatori del tempo un altro episodio dedicato ai vostri video ed eccoci qua come spesso accade con una puntatona dedicata ai vostri stupendi eccezionali fantasmagorici video che contengono poi tutti quei pezzi di ferro denominati oro logi possibilmente pezzi di ferro con all'interno tanti altri piccoli pezzi di ferro che girano perché se poi c'è una batteria che manda avanti tutto l'ambaradà a noi ci lascia un po perplessi anche se sappiamo benissimo che esistono certi movimenti al quarzo che ha senso avere in collezione hanno ragione di esistere ma storicamente parlando oppure anche quelli a livello contemporaneo molto avanzati no mi viene in mente lo spring drive di gran seiko che è un movimento al quarzo alla fine no va bene dai detto questo io vi mostro l'orologio del giorno che ancora una volta è questo bellissimo rolex explorer 39 mm con il suo quadrante nero i suoi bei numerini con il chromalight orologio che è il classico everyday watch perché c'è la sua coronavite 100 metri di impermeabilità tutto bello satinato spartano e c'è la qualità la qualità di rolex c'è dentro volenti o non volenti dobbiamo ammettere che rolex orologi veramente di qualità al di là dello status symbol no poi sono veramente swiss made al 99 per cento mi sembra che fa tutto in casa rolex tutto in casa quindi non c'è nemmeno bisogno di stare a dire no ma il 60 per cento al 50 per cento del materiale loro fanno tutto va bene dai diamo la via ai vostri video così le scimmiette troveranno qualche cosa qualche nocciolina da assaggiare ciao davide un saluto a tutti gli amici del canale mi saluto e grazie per avermi ospitato in questa rubrica ma figurati ti seguo da circa un anno per merito suo sono arrivato ad avere una discreta collezione beh se lo dici te parto con la mia prima passione e anche la mia prima mini collezione legata alla storia in particolare agli orologi che hanno viaggiato nello spazio grazie adesso cerco di essere veloce per mostrarli tutti e tralascio alcuni dettagli tecnici dei singoli orologi va bene ad esempio i movimenti a diapason degli acutron se hai il piacere di aggiungere qualcosa grazie mille partiamo con la presentazione degli orologi va partiamo con il primo orologio e ovviamente è il primo orologio nello spazio si tratta dello Sturmansky di Yuri Gagarin orologio nel 1961 volo con la vostro cuno orologio che si tratta chiaramente non dell'orologio originale ma di una replica in data successiva con però stessa quadrante stesse lancette stesso movimento vostro 2609 con la stessa cassa da 33 mm pensate a seguire questo orologio un orologio che secondo me è molto molto carino e molto molto anche storico si tratta di uno strela uno strela è il primo orologio cronografo credo che sia il primo nello spazio usato da Leonov e anche dal primo cosmonauta non sovietico cecoslovacco ovvero Remek come potete vedere è stato un orologio da un aspetto vintage ma contestualmente anche moderno movimento è un pojot 30 17 la cassa da orologio è un 36 mm il movimento è manuale la riserva di carica di 40 ore con 18 mila alternanze bravo simpatico a seguire un altro crono anche lui facendo parte della storia della cosmonautica sovietica che lo che hanno lo che hanno usato non solo da cosmonauti sovietici ma anche cecoslovacchi francesi tedeschi ucraini ha stabilito il regolo del volo più lungo con la mir mir 14 il suo movimento è il famosissimo pojot 31 33 che penso producono ancora tutt'oggi la cassa orologio già importante si tratta di un 43 mm per quanto riguarda il 31 33 che calibro cronografico russo per antonomasia a carica manuale robusto si trova anche a poco prezzo sugli usati a me risulta che la produzione sia stata fermata nel 2006 poi hanno acquistato i macchinari non vuole dire una bagianata ma la vostro con gli europe cioè che non è più in russia non mi ricordo dove è in germania credo infatti quelli si trovano ancora degli erologi con il 31 86 mi sembra che è una roba simile al 31 33 ma rifatto e addirittura adesso non so proprio se veramente sono i fondi di magazzino oppure ancora li stanno producendo c'è un po di di alone dietro poi sono un sacco di amici che sono esperti di orologeria russa e quindi sapranno aiutarti meglio di me però credo che il 31 33 nel 2006 abbia cessato la produzione interessante questa cosa qua degli orologi dedicati allo spazio per ora abbiamo i russi sono arrivati prima i russi ragazzi tre orologi tre russi ultimo ma non ultimo orologio sovietico sovietico è un orologio un po particolare ha fatto pochi voli nello spazio usate è un anfibia anfibia nasce per le profondità del mare durante un esercitazione marittima i subacquei l'hanno portato perfino a 300 metri sott'acqua e però chi l'ha indossato è uno dei più famosi cosmonauti georgi gresco che l'ho indossato nella missione con la soli uts 17 con la salut 4 quindi la versione spaziale il movimento è un vostro 22 09 le dimensioni sono già un po più importanti si tratta di un 37 mm però però passiamo poi agli orologi della famiglia americana americani anche loro hanno avuto il bel che dire forse gli orologi più famosi sono quelli americani il primo noggio anche lui particolare facendo parte di una sola missione quella con il colonnello pog è stata una missione in cui gli famosi speed master non erano disponibili per cui il pog si è usato un altro seco usato questo seco chiamato mai pog con la referenza 61 39 6500 movimento automatico con dimensioni importanti e tantosini anche lui di un 41 mm bellino questo è un classico per lo spazio ovviamente abbiamo non possiamo dimenticare tutta la famiglia legata ai accutron l'accutron è una famiglia di orologi o meglio di attrezzature tecnologiche che hanno accompagnato tutte i programmi spaziali ora qua c'è da fare i russi utilizzavano gli orologi russi gli americani invece utilizzano gli orologi da ovunque bulhover però in questo in questo periodo qua sicuramente non so che anno è appollo 11 era ancora americana credo era ancora americana prima di essere acquistata poi dalla svizzera sì penso di sì l'accutron questo è un accutron orologio diciamo che un orologio di questi non sarà simile ma sarà della stessa famiglia è ancora sul mare della tranquillità con l'apollo lasciato dall'apollo 11 nel 69 tutte le attrezzature molte attrezzature del programma spaziale erano accutron bulhova il più famoso di questi ovviamente è il il bulhova lunar pilot il bulhova lunar pilot di cui chiaramente ho solo la versione più recente questa versione è quella con chiaramente con la è a batteria anche se molto preciso loro l'orologio originale era un valgiù 72 chiaramente non è possibile comprarlo perché i prezzi sarebbero allucinatamente alti e comunque un diametro di 43 e passa a millimetri quindi un orologio dalle dimensioni molto importanti a seguire questi orologi c'è un orologio un po' particolare che so che non è la tua passione ovvero i glicin airman io ho la versione de chief sono orologi che segnano le 24 ore per cui in questo momento segnali 19 e 5 minuti in realtà per noi comuni mortali salverò le 10 e 5 perché l'orologio segnala il 24 ore e lo so casino ultimo anzi non ultimo diciamo però il più importante è lui ovviamente l'orologio dei sogni di chiunque si occupi di orologi dello spazio ed è l'omega speed master professional top omega che certificato dalla nasa per i viaggi spaziali andato sulla luna in diversi calibri calibro originale dal 321 poi seguito dall 861 il 1861 che è il calibro che vedete in questo momento sul mio orologio più l'ultimo il 3861 che però non è certificato dalla nasa orologio chiaramente bellissimo con forse un unico difetto oltre al fatto che una carica manuale quindi va caricato tutti i santi giorni è un leggeramente pesante però il sospetto e la sua storia lo rendono veramente un pezzo unico se per chiudere due orologini al quarzo che però anche loro hanno fatto parte della storia dello spazio il timex data link usato anche dalla nostra cristoforetti potete vedere il timex qua un quarzone però usato nello spazio è ovviamente il casio 5006 dv 5006 c che potete vedere in questa in questa perfettamente funzionante anche lui usato nello spazio spero il video vi sia piaciuto non vi abbia annoiato cercato di portare un po di orologi che non si sono visti molto sul canale cercato di stare anche nei sette minuti ti ringrazio davide se lo stai pubblicando e soprattutto con la penna no con la penna no come bambini come bambini lo con la penna va bene questo video è interessante è bello mi è piaciuto ti do un bel otto e mezzo per la passione per la ricerca per lo studio anche e per l'insieme degli orologi poi c'è da dire che ne mancano anche altri perché sono stati un sacco di astronauti che hanno portato in volo nello spazio orologi personali dei quali magari sia poca poca traccia oppure ci sono anche il po di leggende attorno forse sì forse no ora non mi vengono in mente ma mi pare che qualcuno ha portato anche dei rolex personali o altri orologi non mi vengono in mente ma sì però è poi il discorso certificato dalla nasa la nasa non certifica un bel niente cioè è proprio una questione di cavillo tecnico è certificare la nasa quando fece delle prove negli anni 60 su distruttive sugli orologi sui cronografi ma erano prove per qualificare quel orologio adatto allo al volo spaziale non è che li certifica capito è un cavillo un pochino che però andrebbe un po specificato ora ti dici che l'ultimo non è certificato dalla nasa non so cosa voglia dire però va bene prendiamo atto anche perché non vedo quali possano essere i problemi ma poi c'è ad esempio sembra l'x 33 l'ultimo che utilizzato dall'esa da lente spaziale europeo che un bel quarzone uno speed master al quarzo digitale va bello grosso di quelli contemporanei ogni 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 epoca al suo orologio adatto è bel video comunque bravo mi è piaciuto lo studio bravo bravo ciao davide io mi chiamo michele e voglio presentarti anche io la mia piccola collezione di oggi vedo che ti piacciono gli omaccioni perché cioè fai la collezione di poster di tutti gli omaccioni del mondo chi c'è totti maradona roba di calcio messi pirlo vabbè il calcio proprio mi sta qua mi sta però va bene contento te contenti tutti ti piacciono gli omaccioni che giocano a pallone in calzoncini corti va bene ci sta i gusti sono gusti e cominciamo con questo bellissimo case real madrid cominciamo questo qua è un g shock che a me piace tantissimo però ma un orologio da battaglia la batteria certo però piace tantissimo ma si può vedere da dove sono io dove sei cosa dire bello il prossimo sempre g shock questo piace tantissimo questo qua l'ho comprato due anni fa per andare a un mare non so c'è a me il colore un colore bellissimo c'è stato arancione al mare ci sta poi è un 200 metri quindi puoi fare tutto quello che ho fatto quello che vuoi bellissimo anche questo simpatico farò prossimo il prossimo il prossimo è un felico questo qua è stato regalato per il mio compleanno la mia moglie non so altri dicono che è placato oro ma anche non mi interessa se placato oro oro un pvd non lo so però è bello anche questo oro vero è un quartz però bello qualsiasi il prossimo il prossimo allora questo qua all'oncino bel dolce vita che l'ho comprato per la mia per la mia moglie questo qua bellissimo questo anche questo è un quartz però lei è sinceramente l'ho scelto io un quartz perché per gesta per lei c'è nel senso che senza spiegare tante cose come si carica perché non si carica hai fatto perché si è fermato l'orologio quindi per non per non avere tutti questi per tutti questi problemi ho detto che lo prendo quartz perché anche lei non non ci interessa mica tanto il quartz automatico è certo perché se una persona non è appassionata no un minimo di orologi è anche controproducente a regalargli un orologio magari meccanico che magari anche con un bel calibro dentro non un caricamanuale è controproducente perché non riesce ad apprezzare anzi spesso e volentieri si lamenta del fatto che va caricato ogni mattina lo caricavano ogni mattina mi tocca caricarlo ma che che orologi sono sti qua non le potevano fare un po più moderni no gli negali un orologio al quarzo funziona finché non c'è da cambiare la batteria e siamo tutti contenti poi tra l'altro anche senso questo longina evidenza così dolce vita così che è quasi un bracciale alla cassa larga tanto quasi quanto il bracciale quindi funziona anche da monile no però secondo me sarebbe bene anche a noi ometti è bellissimo questo bellissimo ma mi piace tanto anche a lei piace certo poi prossimo cos'è ti so bello questo ti so si star 2000 questo qua e come c'è quasi mano quasi però proprio c'è il mio primo orologio un po così così come professionale professionale direi così allora un po' automatico tanto certo questo qua è un 600 metri di profondità bellissimo questo faccio un quadrante questo quadrante che fa impazzire bellissimo anche fuori quando fa impazzire molto bello questo la valvola dell'elio questo qui ti fa impazzire questo qua bellissimo questo questo cinturino l'ho l'ho cambiato io lui ci aveva quando l'ho comprato questo qua eh non va bene questo qua che sinceramente a non piace mica tanto è bello è bello poi però mamma mia che bello c'è anche questo un uomo con beh c'è rinforzi pensate che bello cordura tecnico ecco eccolo è bello però qua è dritto quindi che ti fa non ti copre tutto in senso che non fa questo non è come questo direi questo qua c'era periodo che anche io mi ero fissato su sta cosa qua del delle ansie dritte e i cinturini o bracciali che seguono il raccordo della cassa addirittura erano andate a cercare pensate i cinturini in pelle su internet con che avessero la semicurva per essere perfettamente adesi alla cassa poi però il problema è che non basta sapere l'ansa perché poi la curvatura il raggio di curvatura della cassa non è uguale per tutti no potrebbe essere 22 la larghezza dell'ansa ma quella porzione di curvatura che ti trovi lì differente quindi oppure anche gli attacchi delle spingue se si va un po a caso te l'hai azzeccata questo qua è tesso originale quello che hai messo ora ci sta bene ci sta bene nel senso gomma piena così attaccata ci sta bene quell'altro però più bello a livello tecnico a livello anche di qualità mi sembra però sì va bene ci sta vero bravo braccia bene benissimo l'orologio poi a me piace di più questo anche più morbido più ma ti sono capito se questo c'era avevo la scritta qui un pvd che dal secondo giorno ha cominciato ad andare via ma pensate quindi io ho tolto tutta quella vernice con non so che era quella lì però io ho fatto togliere tutto quello lì e così non ci sono più problemi ma si va bene quindi bellissimo bello simpatico il prossimo è questo qua un long in hydro conquest e un quartz con quattro ero l'ho trovato un prezzo buonissimo direi io ho capito l'ho provato ma non è che perché uno trova un prezzo buono piglia il quarzo anziché l'automatico vabbè se hai scelto se volevi l'orologio al quarzo hai fatto bene a prendere il quarzo però da come me la metti no ho trovato un prezzo buonissimo non si può dire di no l'ho preso al quarzo cioè capito è un ripiego poi non so se nel prosieguo della tua vita collezionistica poi dopo arriverai a pentirtene no è un 39 mm l'ho provato e subito l'ho comprato neanche senza pensare bravo non pensarci nel senso che mi piace tanto poi neanche non mi interessa se è meccanico automatico non mi interessa quindi sei un po come tua moglie ecco qua è bello questo bellissimo certo se fosse meccanico anche meglio a me piace tantissimo certo e viva e viva ecco e niente c'è un quarzo dentro allora è l'ultimo all'orologio ultimo acquisto questo qui questo è un pezzo pino che era proprio fai un pazzire a me piace tanto 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 questo qua un tudor 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 ci do ci do ognuno lo chiama come vuole ma si ecco bellissimo questo ea parte numeri romani è un 38 mm che sta bene bello piace tanto 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 e niente è tutto qua ti saluto ciao 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 ti do un bel 6 è niente oggi un voto basso qualcuno devo darlo prodotti a sé perché insomma maggior parte sono quarzoni boh ora lì quando te hai tirato fuori il tudor royal alla fine royal e tu vuoi stare a vedere che è un quarzone anche questo e lì mi è sovvenuta una considerazione che mai avevo fatto cioè che tudor non fa orologi al quarzo non mi risulta li fa no non mi risulta che esistono tudor al quarzo ecco un una nota di merito per la casa di tutto bravo e infatti con lì è l'automatico bello royal mi piace mi piace ci sono una marea di versioni di questo orologio qua quella con i numeri romani veramente qua affoga il quadrante è quella che mi piace di meno però lo ritengo sicuramente un bello orologio che ti fa impazzire giustamente come ti farò impazzire anche altro oggi è bene così sei però di più ti posso dare diciamo che devi riproporre devi tornare un pochino più attrezzato dai o attrezzato non significa avere orologi costosi da far cadere la mascella significa avere orologi magari particolari ricercati con una certa voglia perché uno mi dice il quarzo a me il quarzo meccanico è uguale vabbè ci sta o ognuno fa quello che vuole però no vabbè dai prossimo video ciao davide sono io da savona ti ho già mandato dei video in passato ma già che ti mostro gli ultimi arrivi ne approfitto per farti rivedere tutta la mia collezione ti ringrazio sempre dello spazio che ci dai e niente anche dei tuoi video che ci tengono compagnia ma sì per prima cosa ti mostro tranquillissimo g shock che mi hanno regalato gli ho trovato un uso l'uso è che l'uso mentre dormo perché ho sonno agitato e spesso mi sveglio e guardare l'ora da qua è meglio che guardarla dal telefono ecco in più c'ha la lucina così se devo andare in bagno non mi perdo pensate le g shock a cosa serve 6 o 5 il primo orologio che ho comprato l'uso ancora volentieri quando magari devo fare qualcosa di più pericoloso che sia una vacanza in posti poco raccomandabili o altre attività lui non tradisce sempre carino sempre consigliato secondo me come entry level è veramente ben fatto e prova a dirlo poi sempre più o meno entry level bello che niente io continuo a pensare che questa linea qua presagio sia veramente bellissima dal punto di vista dei quadranti ci sono dei quadranti veramente di pregevole fattura che non si trovano in orologi in questa fascia almeno non facilmente e niente quindi per chi è appassionato diciamo di quadranti questa è una linea veramente bella e consigliata appassionato di quadranti e appassionato poi manca feticista il mio zodiac oh super seawolf ci piace ho montato questo nylon estivo niente che dire mi piace molto a me il design di questo super seawolf lo uso molto volentieri durante l'estate anche al lavoro perché alla fine è molto compatto è molto se vogliamo anche elegante se per essere un diver quindi si si presta abbastanza bene niente mi piace molto mi piace molto la storia e tutto l'avevo comprato inizialmente per l'heritage di zodiac e poi mi sono ritrovato comunque con un orologio di cui mi piace molto anche il design devo dire come diver scusa ma come non si può comprare un orologio solamente per l'heritage per la storia per la tradizione in primi se la cosa che deve colpire l'aspetto estetico mi piace poi di chi è di zodiac meglio ancora vai compriamolo ma no e poi dopo mi è piaciuto in un secondo momento ma strana sta cosa qua molto strana cioè vabbè poi ho l'oris acquist eccolo livello questo che sicuramente nel canale molto apprezzato come ha apprezzato a oris in generale questo orologio qua è uno di quelli che mi piace di più di quelli che ho comprato devo dire la verità è uno dei pochi orologi che possiedo di cui sinceramente io comprerei anche altre versioni cioè non lo faccio per pudore però ammetto che comprerei anche il quadrante blu oppure quelli che sono usciti adesso estivi con la ghiera bianca comprerei anche quelli sì e niente mi devo accontentare di questo ti capisco io ti capisco perché anche io a volte ho degli la voglia di prendere il doppione o un altro modello per esempio l'acqua terra ne ho uno e mi piacerebbe prendere anche un altro magari non io ce l'ho con calibro 2500 quelli successivi no con l'8500 con l'8800 8900 non mi ricordo eh però ce l'ho già l'acqua terra perché devo andare a prendere un altro però mi piacerebbe cioè veramente poi dopo trovare il tempo per indossarli tutti è un altro paio di maniche a questo punto che uno dice li colleziono perché non è che perché la collezione non è solamente specifica no i longin vintage sono una collezione di longin vintage no colleziono orologi in senso lato in senso generale perché altrimenti non si spiegherebbe uno ti fa la domanda ma scusa ma c'è 30 orologi ma cosa te ne fai non li puoi indossare non fai in tempo e io li colleziono ok metto molto spesso metto con molto gusto e niente io lo trovo un orologio bellissimo io ho preso la versione con insellita principalmente perché sinceramente non ho particolare interesse ad avere il calibro in house e non ho neanche interesse a spendere il doppio e niente io lo trovo veramente bellissimo dal punto di vista dell'estetica del quadrante con questo bracciale integrato lo consiglio molto l'unica cosa peccato che abbiano messo la muta che capisco che capisco che ha senso metterla però bastava farla un po' più corta ed era un micro aggiustamento che sarebbe stato sicuramente più pratico ma non funziona per quello la prolunga per gli indumenti esterni deve essere prolunga per gli indumenti esterni se te la faccio di 2 mm poi quando vai a indossarla sopra o qualcosa e dici ma com'è corta potevano farla più lunga cosa ci faccio io con questa tocca smontare il bracciale la prolunga serve da prolunga la regolazione rapida serve da regolazione rapida ad esempio questo qua c'è l'easy link no cosa c'è l'easy link cioè c'è una maglia che si stacca e si allunga il bracciale ma è una maglia poi si accorcia tac è una maglia sola ma è fatta apposta per aumentare di qualche millimetro la lunghezza magari cambia la temperatura ti allarga il polso non è una prolunga per la muta quella lì sì non ha senso la tua protesta diciamo così poi ho questo laco questo è il laco praticamente nell'edizione in cui ti permettono di creare la versione che vuoi sì tu te lo fanno infatti ho creato la versione senza logo con il bracciale perché io volevo un fligger grosso questo qua è da 43 ma lo volevo comunque con il bracciale perché non avevo voglia di usare il cinturino sinceramente è il cinturino in pelle che comunque ho comprato ma che di solito non uso è bello sto qua e niente diciamo che in questa versione personalizzata si possono scegliere un sacco di cose cioè io ho scelto ad esempio di avere il fondello chiuso si può mettere a vista ho scelto il bracciale beh il bracciale però ho scelto dimensione ho scelto di non avere il logo eccetera eccetera è una cosa molto carina da parte di laco e niente sarebbe bello se lo facessero magari anche altre case cioè avere una personalizzazione di questo livello è molto bello perché al fine ottieni praticamente esattamente quello che vuoi sì io ti capisco ottieni esattamente quello che vuoi fino al momento in cui poi dopo si arriva si straborda nel gioco nella lego nel meccano ti costruisci la cosa che fa per te e a un certo punto perde anche un pochino la dignità della casa voglio no fatemi spiegare nel senso che io rolex ti faccio l'orologio te lo faccio così trump track trip trof track lo vendo non ti do nemmeno tantissime altre possibilità quadrante con colore l'altro perché sono o così o pomì nel momento in cui ti dico oh fallo un po' come vuoi te perché io sono indeciso non so come fartelo l'orologio io perdo fiducia in quella casa ora sto esagerando però il concetto che voglio esprimere è quello se sei insicuro ti do il calibro così il calibro così il calibro così fondello aperto fondello chiuso bracciale cinturino logo lo vuoi il logo io il logo ce lo metto l'orologio mio ci metto il logo cioè è un po' troppo dispersivo secondo me insomma questo è il concetto che volevo fare questo qua diciamo che a me piace molto io lo indosso tranquillamente sul mio polso da 18 posso mostrare che secondo me ci sta non è troppo grande ci sta infatti quando io se fosse se non mi ricordo le misure che fa l'acomo io l'avrei preso anche più grande un flieger da 45 47 come farlo i panarali da 47 l'avrei preso grande questo qua se ti vuoi lo prendi di pregio così come l'hai preso tutto personalizzato deve rappresentare gli orologi flieger che facevano durante la seconda guerra mondiale quindi deve essere grande bello grande 43 anche poco niente poi sempre casa Seiko bellino King Seiko Glicide questo qua mi piace tantissimo è uno dei bracciali più comodi che ho mai provato devo dire questo bracciale è veramente comodo non ha micro regolazioni ovviamente essendo a farfalla normalissimo però il bracciale è proprio comodo ricorda un po' il Jubilee come comunità perché ha queste maglie molto corte è bello assai che avvolgono bene il polso guardali che bel bracciale questo quadrante io lo adoro è proprio bello particolare sicuramente deve piacere ma mi piace molto e poi mi piace che questi King Seiko sono diciamo per qualità vicini anche ai Grand Seiko sono un po' sotto ma sono consigliati se uno vuole la qualità di Grand Seiko senza avere le disponibilità secondo me almeno poi parlando di Grand Seiko ecco fatto Grand Seiko qua top questo SBGR325 che bello che sono un'edizione limitata diciamo commemorativa del movimento 9S automatico quindi è solo automatico non è spring drive non è ibit ma sinceramente di Grand Seiko mi interessava principalmente la loro estetica per essere sincero e niente questo mi piace che è da 37 è un po' più piccolino mi piacciono più piccoli Grand Seiko e trovo che sia veramente un orologio bellissimo l'unica pecca sta nel bracciale che è un po' sottotono rispetto alla qualità di tutto il resto dell'orologio però la qualità è altissima le finiture sono veramente di alta qualità e niente questo lo uso molto spesso come daily ero qua che stavo pensando e mi ero perso tra i meandri ultimamente uno mi aveva fatto una domanda 36.000 alternanze perché Zenit o Grand Seiko io avevo detto Zenit perché vogliono Zenit in questo momento ora stavo guardando questo orologio qua e la scimmietta qua sulla spalla mi ha bussato qua e mi ha detto ma rivedi come sono fatti e quindi mi è ritornata la voglia di un Grand Seiko che poi sono stato anche stupido perché quando ce li aveva in concessione l'amico Giacomo della gioielleria Pasquale Domeci non ho colto l'occasione per prenderli magari a uno sconto come si deve e ora mi ritrovo poi a zoppicare in giro a guardare dove sono dove non sono quanto costano quanto c'è lo sconto o magari prendo il secondo polso vabbè dai andiamo avanti e li uso anche qua eccolo lì Rolex Deja top e niente che dire io ho scelto questa configurazione qua che è da 41 ghiera liscia e giubilì bravo strana principalmente perché trovo che la ghiera zigrenata sul 41 sia un po' troppo vistosa ah ok e niente ho scelto il 41 perché secondo me sul mio polso apprezzando i flieger sicuramente mi trovo meglio con questo con questa versione che dire è un ottimo orologio sinceramente non mi piace tanto la nomea di Rolex però effettivamente l'orologio e la qualità c'è poco da dire e infine come ultimo orologio ti mostro questo qua cosa questo che ho scelto di comprare niente io sono la tipica persona a cui i panerai hanno sempre fatto schifo però poi a un certo punto non so cosa mi hai preso anch'io in parte la corona diamante da flieger non lo so è stato di fatto che a un certo punto mi sono innamorato del Radiomir ovviamente anche della storia di Panerai e niente ho fatto un viaggio a Firenze ho deciso di prenderlo e questo qua che dire mi piace veramente tanto adesso ci ho messo un braccia cioè un cinturino in canvas customizzato customizzato e che dire secondo me è proprio bello cioè io ero proprio la classica persona che non avrebbe mai comprato un Panerai ogni singolo aspetto mi faceva schifo mi faceva un po' grosso sembrava una sveglia e non so cos'è successo mi sono ritrovato che mi piace veramente tanto quindi che dire forse la lezione è mai dire mai c'è va sempre a tempo a cambiare idea niente ti ringrazio grazie a te ti mi hai concesso e alla prossima alla prossima ora anche a me anche a me sono nelle stesse condizioni che Panerai non mi piaceva non lo prendevo in considerazione poi la molla mi è scattata quando un amico Tristano ciao Tristano del canale Urban Gentry mi ha mandato la sua collezione e ci aveva il Panerai il pulso da 40 esiste anche da 40 il Panerai allora si riaprono anche le possibilità sono andato un po' a studiare e alla fine ho scoperto che quelli da 40 non mi interessano e mi interessano invece quelli da 42 da 44 e così via quelli classici e lì poi mi si è aperto il mondo ora in questo momento qua io avevo sempre scartato la cassa del Radiomir perché preferivo quelle con il copricorona le classiche Luminar oppure anche Submersible ora ho visto sto qua che ce l'hai te così e ho ripreso in considerazione anche questa cassa qua del Radiomir cioè pensa un po' come siamo messi qua si cambia idea ogni 3x2 non sono ancora convinto su questa cassa però comincia a piacermi cioè bella senza lag to lag no quadrata eh vabbè io la collezione tua ti do un bello 8 te la sei meritata perché c'è tutti i begli orologi di di pregio che piacciono anche a me diciamo così ma soprattutto il Rolex Digest bianco hai scelto una configurazione strana il bracciale Jubilee la ghiera liscia e il quadrante bianco ma se ho capito quali sono le tue considerazioni a riguardo della ghiera zigrinata che è un pochino più larga sul 41 rispetto al 36 a me sta bene a me piace al polso ce l'ho acciaio oro figurati se è vistoso però a me piace liscia così un po' meno però convengo con te che Rolex fa dei begli orologi al di là della nomea io l'ho detto anche prima forse non mi ricordo a volte mi capitano le recensioni degli orologi le panoramiche e spesso spesso e volentieri ad esempio una cosa che che salta subito all'occhio è quando reggo l'orologio con la corona e certi si intruppano proprio il termine tecnico in italiano è intruppare si intruppano magari non aggancia magari non avvita bene una volta due questi qua con i Rolex mai è successo va tutto liscio come l'olio aggancia la data sgancia la data si avvita perfettamente quando fai la carica manuale senti che dentro gira tutto alla perfezione la qualità c'è su Rolex poi se si li comprano anche quelli che li usano come gioielli per farsi vedere purtroppo è quello che mi fa scadere anche a me perché mi sono dei tre modelli più famosi di Rolex che è il Daytona Submariner RGMT non vorrei nessuno dei tre al momento perché poi faccio la fine dei Panerai e me li compro tutti per assurdo non vorrei nessuno dei tre preferisco altri modelli lo Yacht Master l'Explorer il Dayjust l'Oyster Perpetua tutti quelli che sono un pochino underrated per ora poi magari mi allineerò anche io al mainstream e diventerò lo sfogiatore di Daytona speriamo di no ce ne sono altri di orologi da comprare prima di quello lì prossimo video dai ciao Davide sono Lois da Londra e questo è il secondo video che ti invio ovviamente ho chiare origini calabresi e sono molto fiero bravo allora questo è il secondo video appunto che ti ho fatto da quando ti seguo e da quando poi negli ultimi negli ultimi 6-7 mesi ho deciso di fare di presentare la mia raccolta in modo particolare come se non sia ancora vista sul tuo canale e adesso capirai capirai il perché spero di aver migliorato la mia collezione in questi in questi due anni praticamente da quando ho iniziato ad appassionarmi di più al mondo degli orologi ma adesso bando alle ciance buona rassegna vai ciao gli orologi da nuovo davide altro puntato degli orologi del mondo oggi ti porto milan leon gran milan per presentarti un altro pezzo della mia collezione sì non è il massimo ma dai fai il suo Duomo il tuo preferito Apple Watch bravo ciao Davide eccoci con un'altra puntata degli orologi dal mondo oggi vi porto con me a Parigi ecco la tour Eiffel per presentarvi il mio super quarzon Seiko a batteria la batteria è in fin garda però è un compagno di mille avventure bellissimo insieme a 42 mm di diametro cassa Parigi ciao ciao Davide allora finora abbiamo visto sono meglio i posti che gli orologi e per ora Parigi New York Milano ma bravo però gli orologi eccoci con un'altra puntata degli orologi dal mondo oggi ti porto direttamente a New York Times Square per presentarti il mio bellissimo Citizen su Yosa vabbè non ti annoio più ho già visto rivisto quadrante light blue e niente bello bello nuova York ciao Davide ti presento un altro orologio parte della mia rubrica i miei orologi nel mondo ecco qui Mauritius Africa ecco bellissimo e direttamente dal fondale marino emerge lui promasterone grande acquisto quadrante blu cinturino blu 42 mm di diametro cassa che dire sono super contento ciao Davide ecco una nuova puntata degli orologi dal mondo oggi sono a Roma bella roma bellissima da piazza trilussa ti presento il mio bellissimo maris l'acqua era un po' che non si vedeva da 42 42 bravo un orologio fantastico fantastic che è non stanco mai di indossare anche per business non stanco mai bravo ciao Davide oggi altra città altra città altro orologio direttamente da Miami Florida minchia eccoci ti presento il mio bellissimo Tudor Black Bay 41 mm diametro cassa ghiera rossa bravo bello davvero un orologio stupendo simpatico questo qui l'ho comprato per il battesimo del mio bimbo e quindi ci sono particolarmente affezionato ovviamente resterà in collezione praticamente per sempre ciao Davide benvenuto in un'altra puntata degli orologi dal mondo parte XXXX oggi sono dal bellissimo mare della Calabria Sibari che è la mia terra d'origine vi faccio vedere questo paradiso venite in Calabria ragazzi chiamatemi spettacolo e qui ti sfido perché tu hai lanciato la sfida e io l'ho presa presentarti il mio bellissimo 40 mm che dire spettacolo divino da Sibari Calabria Italia e dall'explorer e tutto ciao 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 Davide oggi ti porto un'altra puntata degli orologi dal mondo ti porto a Santorini nella Caldera uno dei posti più caratteristici dell'isola e ti presento il mio nuovo arrivato che ho comprato esattamente qui ieri ecco a te con lo strappino davvero fantastico sono entrato ieri in questo negozio per provarlo e me ne sono innamorato molto di più di quello braccialato perché il bracciale non mi faceva impazzire ma questo qui con il nylon è giù wow senza parole bravo da Santorini al prossimo orologio città video ciao Davide eccoci qui con l'ultima puntata degli orologi dal mondo anche se non sarà in diciamo in ordine cronologico ma per ordine di importanza direttamente da Wimbledon dal balcone presidenziale vi presento il mio diamantino top Alex GMT Master 2 Batman fantastico Batgirl ogni parola è superflua superflua da Batman Wimbledon è tutto ciao e con il cielo di Londra ti faccio un'ultima panoramica della mia collezione in chiusura eccoci secco Marisla Croazio Iosa Tudor Bello Rolex Rolex Omega Speedmaster e Citizen Iosa spero che il video ti sia piaciuto fammi sapere cosa ne pensi e niente io per il momento sono molto soddisfatto molto contento dei progressi che ho fatto e ma ho detto forse basta ma in realtà l'anno prossimo dovrebbe arrivare il Submariner quindi alla prossima puntata ciao ciao belli bellini bellini guarda lì il teschietto lì cosa fa ci vuole la scimietta al posto del teschietto metteci la scimietta niente ma fregato sto qua perché ho visto che durava 6 minuti io l'ho messo dentro come fosse un video normale invece praticamente era una raccolta un'auto raccolta delle videocartoline dalle vacanze no che lui gira non è proprio vacanze gira ovunque tanti video in verticale ma fregato ma fregato però può essere anche un modo simpatico per presentare la collezione certo che però se ogni volta mi dici ciao davide come se fosse il primo video a me sempre a rispondere ciao ciao e dovevi pensarci prima a strutturare il video in questa maniera in modo da non salutarmi sempre comunque ti do un bel 7 e mezzo la collezione perché sono tutti begli orologi tutti begli orologi explorer mi piace perché ce l'ho anch'io te ce le da 40 più o meno più o meno è così tutti belli il Tudor Black Bay da 41 lì con la ghiera rossa e le bracciare jubilee mi piace abbastanza molto mi piace abbastanza molto quello lì potrebbe essere veramente uno di quegli orologi di Tudor che faccio fatica ad acquistare no che potrebbe farmi scattare la scintilla però è un diver di diver c'è anche una marea sempre diver però è bello il Tudor Black Bay con la ghiera rossa ghiera rossa e abbracciare jubilee proprio mi si discosta da tutto anche da mamma Rolex che è la sua mamma no fino al momento di orologi con la ghiera rossa non ne ha fatti quindi quello lì oh bello così dai prossimo video ciao Davide sono Roberto da Bologna questo è il terzo video che ti mando Bologna ah Bolognese guardiamo un po' Bolognesi lì siamo nella Motor Valley nella zona dei motori Ducati Ferrari Maserati chi più ne ha più ne metta e c'è una macchinina una è la Porsche la Porsche lì però non so che modello è è quella l'Audi TT Roadster è fuori produzione la TT è fuori produzione da poco l'avevo considerata anch'io tempo fa come acquisto ma poi alla fine un po' piccola un po' poi usciva di produzione era inutile prenderla va bene dai i primi due sono stati mediamente Omega Rolex e quant'altro questo è un video un po' più scherzoso un po' più divertente ah bravo il primo video penso che sia stato probabilmente uno dei primi dieci video che ha ricevuto per questa rubrica davvero partiamo col primo orologio un po' di tempo fa ero a casa dei miei genitori papà non avanza due anni mamma 87 e papà portava l'orologio ma non si era accorto che era scarico cioè portava un un orologio al quarzo allora li ho presi a casa per sistemarli per cambiare le batterie e lui mi ha dato dice no ma ti do questo che tanto che io ce l'ho lì è il suo orologio da tasca degli anni 60 è un roscop il roscop ha questa particolarità che scappavento ha iniziato a produrre nel 1860 e il signor roscop voleva fare degli orologi economici costassero al massimo 20 franchi cioè la paga stimanale più o meno dell'epoca e ha fatto questo orologio con 57 pezzi in confronto più o meno ai 160 che venivano fatti dell'epoca e questo è un orologio molto carino è un 41 mm di diametro di fianco all'acqua a terra e si vede che questo è il 41 ed è praticamente lo stesso diametro ed è lo tengo perché ovviamente mio papà me l'ha dato allora la mamma è invidiosa mi ha detto no ti do anch'io il mio orologio e questo è un Omega Deville tutto in oro mamma mia ha un 25 mm di diametro molto carino che bello 25 poi passiamo a un po' qualcosa di un po' divinci anni 60 un secco cosiddetto Digest molto carino anche lui un 36 mm di diametro in condizioni molto 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 buone mi piace ogni tanto portarlo perché è un po' elegante si bella cassa mi piace la forma mi piace la forma della cassa bravo poi io giro spesso in Germania e quant'altro ora mi sono divertito a comprare alcuni orologi questo è un Gub grassute che uno sapesse il Gub è grassute un gran betribe fabbrica di orologi di grassute questi sono orologici fino a che non è stata la caduta del muro di Berlino tutte le varie aziende esatto stai spiegando tutte le aziende tedesche vennero della Germania dell'Est vennero unite sotto un'unica denominazione per il popolo cioè statale Langenzone e compagnia erano tutte riunite sotto questo marchio che producevano orologi diciamo economici dopo dopo la caduta del muro di Berlino tutti i vari marchi sono rimesse a riprodurre orologi di altissima quella ma questo ha un suo perché è un laminato oro è un laminato è un 34 mm di diametro però in ottime condizioni per il Germania fatto bene bravo avevo voglia di un orologio a 24 ore ecco non è che ne vada pazzo però prendiamone un economico e ho preso questo Vostok che è un 39 mm di diametro gli ho messo questo cinturino nato ho fatto un single pass bravo alla fine è anche portabile carino divertente faccio sempre fatica a leggere l'ora però ha un suo perché ma si ci vuole restando sempre su orologi palliot economici questo è un palliot è il se uno potrebbe dire il dress watch perfetto è quasi lui e questo questa versione qua del palliot anche io l'avevo cercata cercata la tenevo sotto sott'occhio per poterla magari comprare tempo fa solo che ci sono anche un sacco di ristampe falsi di questo modello qua perché piace perché va per la maggiore io avevo perché avevo preso il vostro che è classica contemporaneo che era abbastanza dress watch anche lui quindi poi volevo passare al palliot era il momento dell'orologeria russa diciamo che diventa anche elegante 35 mm di diametro ha il suo calibro in house perché è roba che producono là ha un bel po' di anni anche questo però ha sempre funziona piuttosto bene niente di eccezionale poi vabbè ho ripreso questo orologio qua perché te l'avevo visto al polso a me me l'avevano rubato un po' di anni fa in piscina dico allora l'ho ripreso però non avendo il fisico di Cecchini con un cinturino in gomma nero perché giallo non ce la faccio poi volevo mostrare questo Longinia che è un un Admiral bello che monta un ETA 28-24 28 mm questo orologio del 1996 con la sua bella chiusa fanfalle su un bel fondello chiuso ci piace funziona perfettamente e da Somarok quanto sono non l'ho mai fatto revisionare è a 28 anni e non l'ho mai fatto revisionare mi scordo prima o poi lo farò però il bracciale c'è un finale lassù e qua sotto è senza finale è dritto cosa è successo qual è il problema qua non ancora molto bene per ultimo ti mostro un po' un orologio un po' particolare questo orologio è un dinoseio detto anche opera meccana come lo vogliamo è un 42 mm di diametro solo 15 mm di spessore solo però 500 metri di profondità ah beh allora 50 atmosfere ci vado dove voglio è un GMT nella parte superiore c'è la parte si vede il funzionamento del GMT alla riserva di carica senti me ne fa piacere che me lo spieghi tutto come vuoi ma a me a vederlo così mi pare un giocattolo c'è la grafica di un giocattolo è veramente naif disegnata da un bambino mi sembra capito non voglio essere offensivo però non riesco non riesco a farmelo piacere poi con quella data che spacca il 3 lì messa così sarà anche valido tecnicamente tutto quello che vuoi valvola di leglio si chiama Wayfair è una serie limitata a 50 pezzi meno male molto netta 2892 molto particolare piuttosto rara anche perché ne ha fatti 50 pezzi però ha tutto un insieme di cassa in pvd però il resto in acciaio 2892 con la riserva di carica e con non può essere un 2892 semplice no già la riserva di carica le altre funzioni o un modulo aggiuntivo della Dubois Depra con queste cose in più e si spiega poi anche lo spessore di 15 vabbè non lo so fate Vobis sicuramente l'etta 2892 normale non è molto particolare una cosa che mi piace moltissimo è la riserva di carica è una delle cose che io la metterei obbligatorie su tutti gli orologi perché è veramente molto comoda finisco qua sempre tantissimi complimenti per il tuo canale sono sempre divertenti mi fai passare tante ore piacevoli e complimenti e un saluto a tutti gli amici del canale un saluto sono d'accordo con te anche io la riserva di carica la renderei obbligatoria su tutti gli orologi perché è perché è un po' come il livello del carburante quando vai in macchina immaginate un po' di non avere il livello del carburante no ho fatto il pieno un altro giorno ora vado avanti sarebbero tutti fermi ci vuole è qua uguale non è grave tanto quanto rimanere fermi con un'auto però la riserva di carica anche negli automatici soprattutto negli automatici è utile è molto utile a volte io li metto nella mia scatola del tempo non so non so quando è carico al 100% l'orologio a che punto è quindi magari li faccio stare lì invece magari è carico lo tolgo ne metto altri sono pronti per l'uso oppure c'è la sua scrivania fermo lì vedo che si sta sta andando verso lo zero piuttosto che farlo arrivare a zero e poi dopo devo svitare regolare caricare riavvitare che sono tutte operazioni invasive se fate spesso sta per finire lo rimetto nella scatola del tempo oppure me lo metto al posto dell'altro e lo faccio camminare secondo me la riserva di carica è veramente una cosa utile utile per il resto la tua collezione do un set dai senza infamia senza lode simpatica divertente curiosa con le curiosità come lì con il Roscoff che era l'orologio economico come hai detto te perché era veramente fatto con un sistema di scappamento a caviglie che è veramente veramente cheap non era affatto per durare nel tempo in realtà poi hanno durato nel tempo ora però anche lì chissà come è messo dentro quel calibro lì è un po' come il Timex che aveva fatto il Dollar Watch Pocket la tasca da un dollar era veramente senza rubini che poi l'hanno messo anche negli roggi da polso con un rubino senza rubini pallet lever erano robe veramente a usura totale va bene il voto te l'ho dato sei simpatico il tuo primo video l'hai mandato talmente tanto tempo fa da poter rientrare nei primi dieci video di questa rubrica pensa un po' bravo grazie ti ringrazio perché probabilmente hai creduto nella rubrica prima di tutti gli altri perché i primi dieci saranno il secondo video ragazzi a me mi sembra di aver detto tutto io non è che posso stare qui a pettinare le bambole a lisciare i gattini a proposito dei gattini devo andare a vedere su Instagram che loro sono lì che mi aspettano che vogliono fare i salti a destra e a sinistra io unisco gattini e orologi seguo solo gattini e orologi donne ma che cosa seguo le donne gattini e orologi vi ricordo gli appuntamenti fisici che come sempre sono quando voglio io il più spesso possibile qui su YouTube Love 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 Grazie a tutti.